adesso vi faccio un video sull'aglio orsino per prima cosa allargo l'inquadratura l'aglio orsino è decisamente tappezzante vedete io qua non sono in un prato perché raramente l'aglio orsino si trova nei prati più avanti qua c'è un prato in cui ci sono degli esemplari di aglio orsino ma sono veramente minoritari perché ama molto le aree boschive quindi di solito si trova nella zona a confine tra il prato e il bosco inoltre ama molto i suoli umidi e quindi ottimo per la sua crescita sono i boschi di golena ma andiamo a vederlo eccolo qua prendiamo questi esemplari di aglio orsino qua ne abbiamo diversi ecco qua per prima cosa notate la cosa che hanno tutti gli agli oddio cioè la presenza della guaina vedete che dove fuoriesce dal bulbo perché l'aglio orsino ha un bulbo chiaro piuttosto allungato è presente una guaina che questa parte più chiara che circonda le foglie che emergono dal bulbo dopodiché da qua si sviluppa un picciolo molto lungo quindi ogni foglia dell'aglio orsino è dotata di un picciolo che in questo esemplare è corto ma vi assicuro che può arrivare tranquillamente anche i 15 centimetri qua saranno 5 centimetri di picciolo però ecco può arrivare anche tranquillamente ai 15 centimetri l'aglio orsino è uno dei pochi agli in italia che ha la foglia lanceolata perché tutti gli altri agli spontanei in italia hanno la foglia nastriforme oppure fatta come un pochettino quella dell'erba cipollina quindi circolare l'unico altro aglio che ha la foglia lanceolata presente in italia è l'allium victorialis che però si trova a notevoli altezze ed è protetto mi raccomando questa qua è una cosa che bisogna sapere tutti gli agli sono commestibili però quelli protetti mi raccomando non andate a raccoglierli guardiamo la foglia provo a poggiarla la foglia allora è caratterizzata per prima cosa da un lungo picciolo profuma di aglio ovviamente le foglie hanno questa forma diciamo ovale con apice appuntito a circa metà foglia vediamo che c'è una scanalatura un pochettino più profonda rimangono anche durante la fioritura dell'aglio e quindi sono presenti anche alla fioritura e di solito da ogni da ogni bulbo di aglio spuntano un paio di foglie è raro che siano più di due due tre quindi ogni bulbo porta due o tre foglie qua vediamo già un fiore che poi si aprirà il fiore ha un peduncolo che è triangolare e poi farà questa palla caratterizzata dalla presenza di queste magnifiche stelline bianche guardate vi faccio vedere altro aglio anche qua ce ne sono piccoletti vedete da ogni bulbo spuntano due foglie sempre presente alla guaina profumo di aglio il colore è decisamente verde brillante ed eccolo qua questo è l'aglio orsino